eccoci di nuovo qua praticamente stiamo registrando la seconda stagione del campionato master con il torino abbiamo già giocato una giornata che ho fatto stamattina e questi sono stati un po i risultati di questa prima giornata andiamo a vedere abbiamo battuto il genoa bologna pareggia il derby con sassuolo a roma perde in casa il derby con la lazio il milan pareggia con l'empoli l'inter vince al genoma con la sandoria il trapani comincia molto bene 4 a 1 con la cremonese l'udinese batte chievo la fiorentina perde in casa 4 a 0 con la juve il napoli vince 1 a 0 con la spezia e il cagliari batte la spalla noi vi ricordo che l'anno scorso la scorsa stagione abbiamo abbiamo perso lo scudetto all'ultima col pareggiando col bologna 2 a 2 la partita veramente bellissima ma insomma dettata un po da alcuni episodi che ci hanno penalizzato e la juve ha vinto con la cremonese si è giudicata lo scudetto dopo due anni che non vinceva più questi due anni hanno vinto praticamente l'hanno vinto il trapani e l'inter andiamo un attimino a vedere ragazzi ci siamo fatti la champions league siamo riusciti a entrare chiaramente in champions league e andiamo a vedere i nostri gironi ho già visto una squadra che sarà un grande calcio lì contro un un liverpool insomma girone a schattar bayern celtic antaglia sport girone b bordeaux milan genc e riven girone c leister atletico madrid benfica pauc di salonico girone di juventus manchester porto slavia praga girone real madrid manchester city andelec olimpiaco girone f con vitesse barcellona dinamo kiv dinamo zagabria girone g csk pa di mosca olimpica del lione young boys e copenaghen e girone h ragazzi un girone è tosto un girone tosto sport in di lisbona liverpool torino e sparta praga questi sono stati i sortesi che ha effettuato la cpu per i gironi sono salite guardate giù pisa di warn atalanta sono salite il chievo ludinese e il non mi ricordo più a lo spezia lo spezia bene ragazzi andiamo un attimino vederci un attimo di non le nostre diciamo così trattative che abbiamo portato a termine chiaramente io ciò molti attaccanti molti forse anche troppi perché insomma sono tanti abbiamo preso nitrovic kail poi robertson rubin c'erano già se meto c'era conti a fine stagione lascerà perché abbiamo preso alia pong che mi sembra un po cioè di tutto rispetto guardate che roba poi rincò rimane luis garcia rimane gundogan centrocampista preso dalla primavera per dare un po più di spessore un po più di qualità centrocampo goli chiaramente guardate quanto è salito questo ragazzo qua è incredibile drax rimane mazzarani io in primo momento non volevo dare via però detto col budget che ciò chi prendo per prenderne uno che magari è in calo cosa tengo lui poi abbiamo douglas costa che confermato e ho preso bernardeschi questo perché perché con loro due volendo posso fare il 433 vedete che mi possono giocare sia a sinistra che a destra e se non possono giocare bernardeschi addirittura in mediana può giocare e centrocampista centrale mentre douglas costa può giocare centrocampista centrale oltre già ai ruoli che hanno il trattore che passa lasciamo perdere poi vabbò guardate il pacco di attaccanti che ho ragazzi cioè come faccio a dare via questa gente qua guardate che forti che sono Lewandowski si deve fare Campbell l'abbiamo preso in cambio di vaselli dall'undersfield squadra inglese guardate che roba 22 anni c'ha già 81 di velocità e 89 di accelerazione poi il gallo e poi guardate luca cura luca acqua mi ha preso io l'ho preso più che altro per la champions league e quindi questi sono un po i giocatori che abbiamo e niente io vorrei dare via carroll però ragazzi non lo so sono indeciso ditemi la vostra nei commenti insomma carol è un buon prospetto cresce ancora quindi niente per il resto andiamo avanti e non mi sembra di avere in trattativa nessuno se non sbaglio vediamo e infatti non c'è nessuno io direi che il calciopercato nostro può può terminare qua possiamo ritenerci soddisfatti abbiamo iniziato un buon campionato contro il genoa e insomma adesso andiamo a vederci la prossima partita avversario tostissimo perché Sassuolo è sempre una squadra molto molto temibile andiamo a vedere Odukan, Goldaniga, Chiriches, Peluso, Masedo, Buricic, Magnanelli, Tahor, Donnelli, Donnelli non è capito ha fatto dei grandi cambiamenti e Sassuolo va bene andiamo a prepararci la squadra e vediamo un attimino io vorrei provare vorrei provare questo 433 anzi questo 4213 che me l'hanno consigliato e niente chiaramente dobbiamo dobbiamo vedere un attimino così come fare per poter mettere a posto i giocatori io parto da davanti direi che qui chiaramente ecco già non può giocare quindi lasciamo Mazzarani a meno che non ci possa essere qualcun altro ma guardate io voglio voglio mettere Carol il Gallo Velotti io aspeterei un attimino e ci ficherei inglese qua Donna Roma con vediamo un attimo dov'è? ecco non capisco perché se Bernardeschi centrale difensivo mi sembra un po' un'assurdità lo mettiamo in panchina Draxler io qui ecco io qui farei dunque vediamo un attimino ecco mettiamo Mazzarani che è più pompato chiaramente e niente vediamo un attimino anche il centrocampo Rincon direi di metterlo fuori e il centrocampo facciamo Gondogan lasciamo va beh Lukaku al centrocampo chiaramente no mettiamo Gondogan e Gori non ce la fa quindi Luis Garcia terzino sinistro mettiamo Rubin terzino destro ci mettiamo Nelson se meno centrali difensivi allora vediamo un attimo eh possiamo volare subito Mitrovic e Cahil ricordatevi sempre di guardare se possono giocare a sinistra o a destra questo è importante eh Carolino mi piace molto comunque Donna Roma lì il suo lavoro per o male lo fa Manolas lo portiamo su direi di portare anche il Gallo al posto di conti tanto terzino può esserci anche Robertson c'è Adia Pong insomma ce ne abbiamo ce ne abbiamo eh Drax io lo vorrei portare però direi che forse no è meglio così allora ragazzi si comincia e niente speriamo speriamo in bene di eh portare a termine questa partita che sicuramente non sarà facile non sarà facile quindi andiamo avanti vediamo vediamo un attimino cosa riusciamo a fare vediamo cosa riusciamo a fare lo stadio sicuramente sarà pieno perché è un attimo appassionato il gioco più bello di tutti benvenuti le tribune sono gremite d'altra parte il clima è vecevole oggi e invita i tifosi ad accorrere allo stadio non c'è una sola nube in cielo e l'umore del pubblico sembra quasi rispecchiare il bel clima sereno tutti si stanno godendo quella che si preannuncia come una grande serata di festa e di sport Camilla, Le Giorgio e Bayer Camilla, Le Giorgio ragazzi l'atmosfera che si respira in questo splendido stadio è semplicemente fantastica tanti del toro guardate quanti malamia malamia è una buona squadra hanno preso Mazzedo Maglonelli voi Danilo insomma ha cambiato anche il portiere malamia la difesa è in linea e posizionata molto alta questa è sempre tospa la frontale vediamo se riusciamo in questo modo il pressing sarà più efficace ma la della scuola di Camilla 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 si comincia la seconda giornata di andata via e si comincia colizionato si dite il lancio di Camilla sbaglia un pochino, attenzione, subito aggressivo su scuola, Rubin, Caio, buono, Rubin, Vittorino, ha ottenuto tre punti nella prima partita della stagione oggi, sicuramente cercherà di ripetizio, grande, centrocantista, Nelson Serena, Mazzarani, indietro, grazie, Rubin, Caio, aspetta il sedimento, bo próximo punto , buona, ma, mamma mia, cosa parata, cosa parata,甚麼 d'opera ieri ga alasagna , lo marca Cali, Cali in salta, bravo Nel Sansemedo la fa sua ancora Gundo, anche se in posa su quel pallone donna Roma, donna Roma palla inglese, stoppa, molto bene il mezzo è l'intervenuto quando c'era bisogno di lui la mette in avanti la palla qua, riparte il sessuolo del Mendy bella lei, subito così con la cattiveria andiamo, Carol Carol, palla Mazzarani chance per tirare e qui il portiere ha tolto dall'angolo un po' praticamente già fatto dai, un po' buona Mikrovic dai, Cali buona Garzia, in mediana, grande andiamo, andiamo al centro c'è sempre meno spazio bisogna essere precisi e veloci nel passaggio inglese e trova bene il compagno nella porta 9 2-10 caputo non c'è l'amore balsi nero tra l'ora più veloce mi provisco a chiudere 2-1 da Mazzana attenzione fallo giusto fallo giusto fallo cattivo ci sta ci sta ci sta ci sta amonito Garzia amonito Garzia andiamo ci sta ci sta amonito pensione grande sul palo andiamo prezioso anche in interdizione ancora quando è necessario sono tra le migliori qualità di questo giocatore spiglia bravo gol adesso Semedo palla in procedura per Donnarumma si accentra aspetta l'inserimento di Semedo via la va sezione mette il mezzo in inglese in inglese buona ottimo intervento ha fisso il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario buona dai dai Donnarumma buona l'inglese no oh ma no quanto è forte il pomeriggio mamma mia quel pomeriggio non sono comunque riusciti a realizzare la pala fai ballee inglese caro in perdizione aspetta l'inserimento togliela adagassia adagassia con l'inglese dai ma no no ma come c'era due rigole caputo cerca spazio eh buono c'è bravo dai 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 un suonario quel gioco eh stanno provando ad allargare il gioco gli attaccanti cercano di far uscire il consiglio del foglio allargandosi l'esposimento ecco per me fanno così tanto movimento allora la pala un uomo sbaglia già sia in modo da lasciare il colore sul centro scoperto per poi attaccare gli spazi il sgancio amazzorano e chiaro se riesce a prendere e poi sbaglia attenzione qua ahia scatta verso un paese tutto preciso questo non era a fallo, questo non era a fallo arbitro, questo non era a fallo, piantiamola ma piantiamola dai, piantiamola attenzione, attenzione attenzione ehhh, abbiamo afficciato qua occhio dai ah, questa scheda non va bene per il giocatore via mamma il pallone è uscito di un nulla, esito sfortunato, ma ha spaventato un po' con gli avversari ok prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione bella bella, eh mazzarani vai vai mazzarani 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 mamma mia mamma mia dai 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 davvero troppo solo, troppo libero, troppo tempo, cosa ne pensi? ha concluso bene in porta ma qui vedo grosse responsabilità da parte della difesa l'hanno lasciato troppo libero a vedere l'inserimento di Gulligan che è il gran tiro 1-0 bene va bene dai equilibrata ora avranno sicuramente meno pressione addosso ma devono continuare a lottare ragazzi che centrale l'ho preso mi trovo di Ciccail mamma mia dai Donnarumma dai inglese pallo ehhh ehhh no ne rivediamo ma non era la munizione questa mmm mmm non era cattivo però tensio io ci provo ha toccato la barriere va va c'è la palla lunga in avanti ragazzi ho deciso mi toccaro sul mercato guarda linea alza la bandierina molto affatto ho pensiero di tenere in panchina Lewandowski ehhh Bellotti gente come Maceo no no non so che forse ne vanno se non li fai giocare Andrea Mazzarani ehhh Mazzarani dai andiamo tanto buono buono avvise vanno buono 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 ah come non vanno vanno un gol di cui l'allenatore non può essere contento non dovranno farsi prendere dalla fretta adesso se vogliono rientrare in gara eh ragazzi io lo voglio provare no, lo facciamo esordire in casa qui direi che va bene così va bene così vediamo Bernardeschi eh non c'è se lì già ne ho visto allora l'arbitro gli fa capire che da qui in avanti non si faranno più sconti alla prossima scorrettezza ci sarà il cartellino l'arbitro l'ha guardato buona García ecco questo è questo un crocci grande Cahill mamma mia che tipo questo guardavo di là vai da Roma vai paolo in avanti verso il compagno opportunità di ripartire caputo esce a corsa ha fatto proprio l'ufficio di passaggio bravo bravo scatta verso il pallone se nero se nero colpisce il pallone ha segnato ma se e questo gol da loro ancora maggiore sicurezza mamma mia è entrato questo qua niente di più facile è stato invitato al panchetto e non ha rifiutato ha eseguito un movimento da attaccante di razza ma il passaggio non era da meno tutta l'azione è stata da parlare del calcio e ha avuto subito un grande impatto e niente ragazzi sono contentissimi a dire magari ho tenuto una 0 2 a 0 dunque a dire si trovano nella posizione ideale per il piede 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 ancora che si sgancia e che va ridi per il piede mamma mia si riparte con un fallo alla deriva mamma mia mamma mia ma che piede c'ha ma mia mi trovi qui non si capiscono si appoggia al pontiere al verso vieni vai alla Bernardeschi vai alla Bernardeschi bravo il Torino potrebbe anche tirare l'emimbarca ed evitare inutili rischi la qualificazione sembra cosa fatta riceve la palla l'inglese ma mamma mia che gol che gol un tiro eccezionale mamma mia che gol di vantaggio si spegne la luce per gli avversari mamma mia il Torino ci ha fatto vedere una bellissima azione gli avversari guardate come si gira oh alla Gallo bello ultimi controlli a bordo campo passaggio di consegne tra chi sale in cade ma come si fa con un pochino a giocatore così una sostituzione che inserisce un po' più di creatività per provare a mischiare le carte 3 a 0 dubbo i rapporti di forza sono chiari al momento sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro dottino eh ma grande il metro bel pallone ma grandissimo e lo un pochino traurè 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 la mette in mezzo eh ma se non era male prova la difesa in questa situazione pallone lungo in verticale adesso se solo ci prova magnanelli attenzione e trovo il compagno bella per cura guardate la palla guardate dove rimane la palla è comica quando la palla si muove così velocemente all'interno dell'area di rigore per la difesa avversaria è difficile intervenire non mollano hanno trovato un gol importante no bella bella ma non mani che palla ha regalato Magnanelli l'hanno sul mercato però più giocatori qualcuno deve sartificare mamma mia ah va eh qui il giocatore riceve un sonoro avvertimento da parte dell'arbitro il cartellino lo aspetta la prossima scorrettezza no Gündogan fa sbagliare bravissimo vai bene bella vai Bernardeschi scatta verso il pallone bernardeschi ma riceve un bel pallone ma no bravissimo soltanto rimessa laterale qui vai no ma se no no bella che se questo non è il suo ruolo nel calcio di oggi ormai tutti gli allenatori chiedono questo tipo di sacrificio agli attaccanti l'azione si stava facendo pericolosa ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo cerca l'uomo là davanti ha la possibilità di andare verso la porta mazzeo e così nessun fondo una manovra offensiva impeccabile Fabio per impegno e tecnica questo contropiede meritava un esito migliore il sassuolo non riesce a mantenere in possesso di quel circa il tiro tra l'oree occasione per il contropiede bravo a tirare un'iniziazione decisamente rubin inglese rubin buono buono questo tentativo sulla faccia sinistra palla al centro palla dietro nessuno raccoglie attraverso buono buono mazzeo non può tentare la conclusione ecco la rete il movimento è stato perfetto si è fatto trovare pronto e ha segnato gli hanno concesso troppo spazio e lui si è preso tutto il tempo per prendere la mira e buttarla dentro e con questo segna una doppietta davvero una grande partita vantaggio di tre rete piuttosto rassi caputo ma da lì poteva sicuramente chiudere il tiro meglio si è stato più cinici si è stato più cinici tiriamola su dai che è finito si la partita è finita tutti sotto la doccia abbiamo ammirato una squadra in grande condizione in grande salute non c'è mai stato un dubbio sul risultato eccoci qua Luca allora qual è la tua opinione sulla gara andiamo a vederci come sono finite allora vabbò noi abbiamo tutto lo sassuolo il Gelo è aperto in casa col Cagliari il Lazio batte Bologna la Roma vince con l'Empoli Inter e Milan 1-1 Cremonese Sandori a 0-0 Chieve Trapani 1-3 Juventus Sudinese 1-0 Fiorentina vince con Spezia 3-0 e il Napoli vince con l'Aspaldo dopo due giornate ecco la classifica c'è di nuovo al momento duello Toro-Juve si inserisce la Lazio poi va la Cagliari Napoli-Trapani e poi via via le altre le ultime vedete sono quelle lì andiamo avanti allora ragazzi io ho deciso ahimè purtroppo di devo fare dei cambiamenti anche perché giocatori che mi possono giocare trequartisti ne ho tanti quindi io punto a tirare su un po' il budget e io direi che il suo tempo veramente l'ha fatto quindi Mazzarani sul mercato insieme a Andy O'Carroll e vediamo da qui alla fine ragazzi se insomma arriveranno le offerte andiamo avanti vediamo quello che succede questa è l'ultima giornata vediamo se no ci riteniamo è sicuro non li svincolo per non prendere niente ah ecco subito subito puoi capire subito eh vabbè torna 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 a una sua vecchia conoscenza il West Ham adesso qua bisogna vedere io direi di non darglielo assolutamente alla Roma ma glielo diamo in Inghilterra grazie di tutto anche per non ritrovarli i soldi che abbiamo preso anche per non ritrovarcelo poi contro io faccio sempre così eccolo attenzione attenzione madonna come arrivano le offerte eh perché sono forti uh l'Eintrack te lo vuole eh glielo diamo all'Eintrack grazie di tutto Mazzarani ragazzi guardate con due cessioni i soldi che ho fatto 34 mila 34 milioni di euro in più ho preso vi rendete conto con due con due cessioni io però voglio fare un'altra cosa via perché tanto non lo prende nessuno ragazzi è inutile tenercelo lì almeno la possibilità che se qualcuno lo trova tanto guardate trequartista mi può giocare Draxer può giocarmi Luigus Garcia può giocare addirittura Douglas Costa Bernardeschi Inglesi guardate quanti interquartisti se io voglio che c'è guardate qua avete capito ecco questo è il motivo del perché gli ho dati via anche perché ragazzi avevo bisogno veramente di fare un po' di cassa adesso devo solo studiare se prendere un centrocampista centrale oppure no ma io direi di no perché quando non giochi con i due esterni sia questo Douglas Costa che Bernardeschi possono farmi mediano uno e centrocampista centrale e centrocampista centrale l'altro in più anche Draxer Gori no li abbiamo li abbiamo i giocatori dai li abbiamo li abbiamo però io ragazzi ragazzi scusate ma io un colpo sorpreso lo devo fare in difesa vediamo di una cosa faccio una pazzia lo so ma faccio una pazzia ragazzi vediamo se riusciamo a la Roma non c'è nessuno che mi interessa proviamo a vedere un po' tutti vediamo io sono convinto che accettano sono convinto però non c'è nessuno qua dietro pellegrini vecchio ormai qua lo gabbro non mi dice niente di che ragazzi riusciamo a avere questo però guardate quanto costa small link mamma mia riuscissimo a prenderlo proviamo uno scambio vediamo una cosa proviamo ragazzi 50 milioni vuole fatemi provare una cosa la nostra trattativa non lo soddisfa e noi gliene diamo così 1 e 9 giocatore lo lasciamo così ragazzi però devo sacrificare un attaccante io sono un po' messinio nel dare via Donnarumma o Maceo però uno dei due devo ancora andare via ragazzi non so chi dare via non so chi dare via 3 4 5 6 poi abbiamo anche la Champions ti restano 7 accanti io provo a vedere una cosa ragazzi provo a fare questo lavoro qua vediamo quanto arriviamo a pagarlo guardate quanto lo pagheremo solo small link proviamo io gliene voglio dare 16 e gli do una Roma alla Roma visto che cerca l'attaccante vediamo questo sarebbe un gran colpo in difesa visto che non sono riuscito a prendere Glick Giardel Prodl Van Berger vediamo di prendere questo avevo chiesto anche un altro giocatore inglese non me l'hanno dato andiamo avanti attenzione 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 niente è impossibile da prendere è impossibile allora sapete cosa vi dico che io donna Roma me lo tengo abbiamo 7 attaccanti di Lukaku tanto può giocare in Champions League quindi abbiamo due per il campionato due per la Coppa Italia e 2-3 per la Champions League quindi direi che è tutto sommato vediamo se qualcuno ha offerto qualcosa se potrebbe arrivare qualcuno vediamo ma è niente ma è niente ragazzi andiamo andiamo avanti così poi peccato se veniva lo prendevo Smalling ci ho provato poi ci andiamo a vedere un pochettino si va bene donna Roma rimane con noi fino a fine stagione poi vedremo ok niente ragazzi è dura perché quando hai voglia di attaccanti diventa così guardate che partita che c'è qua guardate che partita che c'è qua ragazzi mamma mia che partita mamma mia ragazzi tutti pensano che supererete con facilità la fase gironi ma quali pensa che siano le vostre reali possibilità vediamo le risposte vincere facilmente il girone possiamo vincere il girone saranno rotto sul filo di rana io direi che vincere il girone è un bonus col girone che abbiamo se dobbiamo restare umili e con i piedi par terra perché abbiamo tre squadre ragazzi che insomma tosta vediamo i messaggi cosa ci dicono gli undici del mese allenamenti settembre agosto smalling peccato peccato veramente ragazzi io proverei a fare ancora il liverpool se riesco speriamo e niente vai proviamoci dovrei perché ho messo 60 minuti sono sarà 50 minuti che registro è una quarantina mi manca ancora 20 minuti ma direi che possono bastare ragazzi che esordio contro che squadra la mia amata liverpool squadra che io tifo in Inghilterra io direi di giocare così ragazzi giochiamo così perché il 433 qua se non hai giocatori più che pronti rischi di prendere calci nel sedere allora dietro facciamo De Vrij e mano lasso pienamente poi via Rubin e ci mettiamo lo spessore di Robertson di qua se vedo davanti loro patiscono molto la velocità quindi ragazzi guardate c'ho l'imbarazzo della scelta attenzione a chi gioca Lukaku Lukaku con Campbell ecco così Draxel Douglas Costa Luis Garcia io lo tolgo ci metto Bernardeschi insieme a Gori a destra dobbiamo così ragazzi un misto un misto mi trovi cv a di appongolo possiamo lasciare ragazzi con darsene in panchina portiamo Lewandowski Gundogan al posto di Kail facciamo rifiattare un po' tutti dai e Mazzeo Mazzeo a me dispiace lasciarlo in tribuna quindi verrà il momento anche per il gallo non c'è problema ragazzi incrociamo le dita si esordice in Champions League all'Anfield Road di Liverpool mamma mia mamma mia mamma mia che emozione vi ricordo che due tre anni fa mi sembra giocavo un amichevole con Liverpool e giocammo pure bene segniamo pure il gallo quindi andiamo avanti dai vediamo mamma mia chissà che atmosfera che c'era mamma mia eccolo mamma mia benvenuti cari appassionati immagino che siate ansiosi come noi di vivere la magia di questo trofeo e come i giocatori che scendono in campo per giocarselo al massimo delle loro possibilità anche voi sarete eccitatissimi chissà cosa si saranno detti negli spazi dopo due anni ci saranno scambiati sperate un filetto un uomo in due mi hanno evitato quante giorni era un sogno di affrontare l'unico obiettivo quest'anno amici la coppa l'anziamo noi no vabbò starezza non direbbe in arte più nero la quale perfetta per partire come queste il fila granata vai vai mamma mia che squadra ragazzi che squadra questi fanno paura ecco vedete io faccio girare un po' tutti non guardo chi gioca meglio chi gioca io faccio girare un po' tutti è giusto che sia con me l'attesa è finita orì accomodatevi in poltrona perché il calcio che conta torna finalmente con un nuovo tutto la partita inaugurale del girone offre sempre diversi spunti e anche la prima occasione per mandare un messaggio alle altre squadre di gioco una parte importante la giocherà il nervosismo iniziale ma la voglia di cominciare bene il torneo sarà un forte incentivo per entrambe le formazioni di cominciare con il calma eccolo qua l'idori ma non è questo ma luce è meglio no era l'idrace e si comincia ma il calma si atterra è che sta qui mi ricordo quando giocava nell'under si bene buona guardate guardate no no ma mia la squadra al debutto nella massima competizione europea per club dipendere con la bisogna ben figurare sul palcoscenico internazionale ha espresso anche qualche dubbio sulla profondità della rosa e certo la qualità non gli vanna ma possiamo solo giocare qua noi perchè qualcuno ha deciso così non spende, non compra vecchia storia qua è la sfida ma non si è molto bravo non era tanto pratico palla palla c'è torta un po' a che parata ma è stato spaventare bene la palla ma il portiere ha risposto veramente alla grande sono forti attenzione a questi dai dall'andeschi dai penso che l'idea sia quella di aumentare la pressione buona gliela presa eh ma dai gliela presa nooo non due luce mamma mia che l'abbiamo chiuso qua lukaku madonna che potenza risolva una situazione che potrebbe diventare in sigla l'abbiamo preso per l'accento ah dai è tossa grande gori qui cosa ha preso rax svegliati a vai lukaku vai in profondità mamma mia dai roberts la via di nascita dai roberts benadeschi benadeschi inserimento la via di forza e gliela da molto bene palla verso il cuore mamma mia mamma mia ha toccato un pallone già pericoloso di fare mamma mia attenzione vai vai grande devrai andiamo eh mamma mia dai dai un pareggio all'alto non è male se giochiamo e se vi foste sintonizzati solo ora tranquillizzatemi la partita è ancora sulla 0 a 0 ottimo il fraseggio no mamma mia che squadra ragazzi madonna come giocano bene vince il duello fisico andiamo gori grandissimo il gori mamma mia eh sto Campbell dorme un pochino deve farsi deve farsi dai dai grande grande proprio semmedo eh poi vuole in destra con la pallo pallo eh pallo pallo vediamo pallo su semmedo eh direi di sì madonna no dai ragazzi proviamo che signale dai no andiamola qua è lontano per tirare in porta dai gori avanza avanza bravo dai douglas douglas costa dai robertson palla bernardeschi ancora douglas costa il tiro in e tenn як no tra st roidi ma e sempre la l'uomo un pochino che non è neanche rispetto di chi pagano è vedere le partite andiamo dai occhio Mamma mia, mamma mia, mamma mia, dai Conte, Debrai, Roberto, 1-2, chiamalo, sai, guarda, 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 bravissima, guarda, 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 questo è forte, andiamo andiamo andato indietro palla allontanata senza troppi dai, ci stiamo giocando abbastanza bene no, dai, non mi fai girare le palle ti butto via dai e che cavolo, ti dai i piedi oh guardalo lì guardalo lì Campbell uuuu ragazzi stiamo giocando bene stiamo giocando bene stiamo giocando bene ma perchè? non manco l'occaso, va bene ecco l'arbitro che ha dato il pantaccio ma vai, non l'aveva neanche toccata aveva la mano sul braccio, ma piantiamola va grazie grazie andiamo grazie vai lo scatto vediamo Bernadetti mamma mia cosa ha prenduto mamma mia grande tiro di Bernadetti mamma mia cosa ha preso ragazzi è di nuovo tutte le volte lo devi fare sta a fare gran colpo di testa ecco 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 andiamo così, andiamo così, vediamo cosa succede, bravi tutti, bravi tutti, bravi tutti, ma quanto è grosso, ma no, te meto cosa fai, ai 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 mi fai lo butta fuori, lo butta fuori, lo butta fuori, porca puttana, giusto, giusto, è entrato sulla gamba, no, voleva mandarsi il pallone, vediamo, eh, il pallone, il Torino dovrà affrontare il resto della partita in dieci, eh, adesso facciamo battere qui, eh, questa è una perdita grave, mamma mia, ragazzi, scusate, ma questo lo deve fare, dare pazienza, si può risparmiare, abbassiamo l'Agras, connessione mediana, mediano 60, nessuno, gran partita di Cori, tutte le volte che lo metto, Cori non tradisce mai, mai, mai Robertson, andiamo, Bernardeschi, grande, guardalo che va, no, 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 lascia, lascia, se no sei in fuorigioco, bravo, via Donnarumma, eh, sbagliano qua loro, dai, dai, riportezza di lotte, grande Bernardeschi, Bala Lukaku, bello, palla dopo il Bocco, com'è, ah, amm... Aspetta, bravo, se n'è, ne ho mai andare l'incontro, ne ho mai meno, eh, bastiamo un po' ragazzi, ti difendiamo e ripartiamo, dai, beella, grande, da bBR, mamma mia, nove, dai, bella, alla fine se ne va occasione perché finisce che c'è scegliato raga perché non ha tirato prima mamma mia che controllo in corsa che aveva fatto ma perché hanno già messa da calcio d'angolo sembra che vogliono riprovarci e va a colpire di testo queste gole queste gole la colpita no queste cose si assomigliano a tutti sono come i cinesi speriamo di farcela finire la registrazione ragazze 60 minuti e questo ci va due ore a caricarmi il suo video non importa se la lasciamo accesa non è un problema occhio grande vedrai ragazzi ma quanto è forte ma avete visto come la palla verrà rimessa in gioco con le mani ma no ma non diciamo cioccolata per lasagna che poi è buona tutte e due ne avrai bernardeschi bernardeschi grande partita di bernardeschi andiamo lukaku mamma mia come tocca il pallone ancora lukaku eh ce li ha gli anni ce li era qualche anno fa bravo dai bernardeschi bravo bravo mamma mia come difende la pallone prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione e che è il giocatore è il giocatore non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità lo spazio per il passaggio l'ha visto giustamente ci ha provato ma non ha toccato nel modo giusto il pallone bisogno di gioco grazie vi aspetto il gol di Kambel comunque ancora già arriva Kambel prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti settantesimo facciamo il Kambel cercano di rilanciare l'azione dalle retropie 1 a 0 ragazzi dobbiamo accettare ah 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 da dai nooo mamma mia come gioco bene ma no bravo ragazzi dai Lukaku uuuuuh mamma mia dobbiamo accettare questo è un chiaro esempio di un gioco è un gioco e l'uomo del gioco ma non ha mai le spazio e l'uomo del gioco è solo che l'esibuzione non sia stata l'attesa, ai ai ai, entra Stili Gonzale, ai ai ai, e allora qua dobbiamo modificare leggermente, giochiamo dietro, vieni Lukaku, vieni, 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 vieni a coprire, bravo, centrocampo a 6 addirittura, buono goi, ma vabbè dai, non lo voglio rivedere, lasciamo perdere, lasciamo perdere, questi falli veramente sono ridicoli, ridicoli da chiamare, ha messo tutti i velocisti il Liverpool, occhio eh, è grande, è grande Lukaku ancora, no, poi sbaglia Quadrax, sbaglia su Campbell, sbaglia, 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 per Milan, pallone lungo, in verticale, quando arrivete, no, ma, vabbè, vado, 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 v attenzione attenzione no non ce n'ha più non ce n'ha più grande non ce n'ha più però pallo scadiglia in avanti scadiglia in avanti vai ragazzi grande partita meritata la vittoria bravo bravo vengono indietro indietro spattano ancora bravissimo grande partita di essere più concreti se vogliono recuperare vai in mezzo di cacolo a fermo si sovrappone da questa parte vai Gori bella è Campbell non è più bell'anticipo pericolo sventato ormai li lasciano spesa molto distratta in questa occasione non possono permettersi di perdere la concentrazione così mamma mia è una costante 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 inizia nel migliore dei voti una vittoria nella prima giornata molto bene bravi e invece le parole lasciano il tempo che trovano questi sono i risultati della prima giornata madonna Barcellona 4 a 0 perde in casa con il Dinamo Kier con la Dinamo Kier mamma mia questa è la sorpresa e la Juve vabbè vince 2 a 0 a Praga Bayern Monaco 1 a 1 anche lui quest'anno ho paura che in Champions ci saranno delle sorprese in finale mi potrò sbagliare vabbè andiamo avanti questa vabbè inutile a guardarla andiamo avanti ancora ragazzi io ho finito qua spero che vi sia piaciuto e niente fatemi sapere se si è sentito bene perché ho provato a mettere l'auricolare delle cuffie con il microfono vicino alla bocca e fatemi sapere grazie a tutti e alla prossima vi ricordo che non ne registro tutte registro quando voglia poi io vi faccio vedere classifica e tutto il resto va bene? grazie a tutti una buona serata